Come hai iniziato la mia carriera facendo il centro sperimentale? Non abbandono il fatto di fare lo sceneggiatore per altri pur scrivendo dei film per me in questo periodo. Ho fatto regie di spot pubblicitari ma solo amatoriali, cioè quelle dei pizzicagnoli, mai a livello professionale. Da quando faccio il regista mi è stato chiesto diverse volte ma per un motivo o per l'altro non potevo farlo. Una volta mi ricordo c'era un importantissimo spot, era una bellissima occasione ma era il giorno dell'uscita del mio film. E bisognava girarlo quel giorno lì perché poi spesso il mondo della pubblicità è cotto e mangiato, cioè sono molto più svelti nei tempi e molto più inchiodati rispetto al cinema. Il più curioso sicuramente è leggere il Cinetel il lunedì dopo l'uscita di notte prima degli esami. Cioè quella è stata una vera sorpresa scoprire che il film fin dal primo weekend andava bene e che quindi mi sarebbe toccato fare la regia perché quello è un film che ho fatto per caso. Nel senso l'ho raccontato più volte, è un film che molti registi italiani, anche molto più famosi di me, hanno rifiutato e mi sono ritrovato dopo 15 anni in cui ormai facevo lo sceneggiatore ed ero anche molto più allegro facendo lo sceneggiatore. Perché se c'è qualche ragazzo che vede questo filmato la vita dello sceneggiatore è molto più comoda della vita del regista. Meno gratificante ma più comoda. Ho capito che dall'ora in poi forse avrei dovuto alternare le due attività. Allora Movie & Co e tutti i concorsi che promuovono la creatività giovanile secondo me sono assolutamente benvenuti. Anzi mi rammarico che ai miei tempi non ce ne fossero abbastanza. Canova dove eri? Che facevi vent'anni fa quando io tentavo di iniziare, giravo dei corti e nessuno se li guardava? Io mi ricordo con piacere il periodo in cui facevo il corto d'ammissione al centro sperimentale perché era bellissimo sapere che qualcuno l'avrebbe visto e che c'era un obiettivo, cioè che il corto non sarebbe caduto nel vuoto. Un po' credo la stessa cosa che sta accadendo per i ragazzi che hanno fatto questi spot. Cioè sanno che comunque è un piccolo biglietto da visita, per alcuni anche un bellissimo biglietto da visita, peraltro. Non vi dico adesso per quali ho votato ma ce ne sono due in particolare che mi hanno colpito molto e che secondo me sono pronti per la messa in onda. Comunque benvengano questi concorsi perché danno iniezione di fiducia e quando sei agli inizi la fiducia è veramente la cosa che manca e che ti porta ad andare avanti e a migliorare. Ciao Gianni!